Fino al 31 agosto il bibliobus dell'istituzione e biblioteca classense riprende il percorso estivo che prevede le fermate ai lidi e una novità, la darsena di città. Sulla banchina del lungo canale di via ad Alaggio, in prossimità di darsena pop-up, sarà possibile incontrare il bibliobus ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19 e trovare tante proposte di lettura e visione per tutti. Il bibliobus arriva in mobilità della biblioteca di Ravenna. Come si muoverà sul territorio? Il bibliobus si muoverà su tutto il territorio, comprese le frazioni marinare. Poi il mercoledì e il sabato si ferma anche al mercato, al mattino. La novità di quest'anno è la darsena, perché secondo noi per valorizzare anche i lavori che si stanno compiendo qui in darsena era necessario segnalare la presenza della biblioteca classense. Il bibliobus è un servizio molto amato dai cittadini che fa parte del sistema urbano della biblioteca classense, che come si sa ha tante biblioteche sul territorio e questa è la biblioteca mobile. Sono state allestite un paio di postazioni, perché oltre alla postazione all'interno del bibliobus c'è la possibilità di ricevere informazioni e di registrare il prestito anche nella postazione esterna, che è quella con i tavolini, che funziona anche da vetrina con le ultime novità editoriali. Una biblioteca classense, ovviamente, su mezzo di trasporto molto ridotta, ma comunque varietà per i lettori di scelta? Sì, una grande varietà. Noi cerchiamo con questo bibliobus di servire tutte le fasce d'età, andando dai piccoli fino ai giovani young adults, come si chiamano, fino agli adulti veri e propri, che possono trovare un po' di saggistica, ma soprattutto narrativa, che è quella su cui abbiamo più fornito il bibliobus. Per quanto riguarda tutte le disposizioni di sicurezza che all'interno del mezzo di trasporto con i libri deve rispettare il lettore, che entra e quali sono? Allora, intanto è stato predisposto un percorso unidirezionale, quindi ci si sanifica le mani con l'apposito liquido che è all'ingresso. L'ingresso è da una parte e l'uscita è esattamente dall'altra parte. Sopra si può registrare il prestito, si possono chiedere informazioni alla bibliotecaria, si starà sempre con la mascherina. Oppure, se uno non volesse salire, potrebbe comunque chiedere informazioni e registrare il prestito anche proprio qui all'esterno, all'aria aperta. Tutto sempre nel rispetto della normativa regionale e nazionale.